L'Orologio da Polso Elegant Collection rappresenta una pietra miliare nell'universo dell'alta orologeria. Con un mix di design sofisticato e maestria artigianale, questa collezione incarna l'essenza dell'eleganza senza tempo. La storia dell'Elegant Collection è un tributo all'eleganza e all'arte orologiaia. Creato con l'obiettivo di offrire un orologio che incarna la bellezza senza tempo, questo modello è stato lanciato con l'idea di unire l'estetica sofisticata alla precisione dell'orologeria. La sua storia è una testimonianza dell'attenzione ai dettagli e alla maestria artigianale che contraddistingue l'orologeria di Elite. Il design dell'Elegant Collection è caratterizzato da linee pulite e dettagli raffinati. La cassa spesso presenta curve sinuose e finiture impeccabili, creando un look che cattura l'attenzione con la sua eleganza senza sforzo. Il quadrante spesso è abbellito con indici eleganti e lancette sottili, riflettendo l'attenzione ai dettagli e la leggibilità dell'orologio. Questo equilibrio tra design affascinante e funzionalità rende l'Elegant Collection una dichiarazione di eleganza senza tempo. Molte celebrità di fama mondiale hanno scelto l'Elegant Collection come un simbolo di raffinatezza e stile senza tempo. Un dato degno di nota è l'attenzione costante alla perfezione del design dell'Elegant Collection. Le edizioni successive spesso presentano dettagli esclusivi, come materiali pregiati o complicazioni avanzate, dimostrando l'impegno costante verso l'evoluzione e l'innovazione nell'orologeria. In conclusione, l'Elegant Collection va oltre l'essere un semplice orologio da polso, rappresenta l'essenza dell'eleganza senza tempo e della maestria artigianale. La sua storia vincente, il design affascinante e le numerose edizioni speciali lo rendono un'icona di stile e raffinatezza. Indossare un orologio della Elegant Collection è un tributo all'arte dell'orologeria e all'eleganza intramontabile. Con la sua storia ricca, il design sofisticato e l'impegno verso l'eccezionalità, l'Elegant Collection brilla come un gioiello senza tempo nell'universo dell'alta orologeria. Scegliere un orologio dell'Elegant Collection è abbracciare l'eredità dell'arte orologiaia e l'essenza dell'eleganza senza tempo.